Hai mai pensato a quanto possa essere intricato e misterioso il caso di una persona scomparsa? Oggi ti porteremo nel cuore di uno dei gialli più avvincenti e discussi degli ultimi tempi. Ma cosa è realmente accaduto a Liliana Resinovici il 14 dicembre 2021? E quali nuove rivelazioni sono emerse nell'ultima puntata di Chi l'ha visto? Resta con noi per scoprire i dettagli più sconvolgenti di questo caso. Nella recente puntata del programma Chi l'ha visto? Si è aperto un nuovo capitolo nel caso della scomparsa di Liliana Resinovici. Una storia che continua a tenere tutti con il fiato sospeso. Lo studio ha ospitato Claudio Sterpin, il fratello di Liliana, e il suo avvocato, che hanno discusso di nuove potenziali svolte nel caso. Il dibattito ha preso una piega particolarmente intensa quando è stata analizzata una serie di chiamate fatte da Sterpin a Liliana nel giorno cruciale della sua scomparsa. Sebastiano Visinten, marito di Liliana, ha condiviso un dettaglio cruciale. Durante una delle telefonate, ha percepito un'atmosfera tesa, un elemento che Liliana aveva menzionato come ricorrente nelle loro conversazioni. Cosa ne pensi di queste ultime rivelazioni? Condividi la tua opinione nei commenti qui sotto. Il focus si è poi spostato sugli eventi che hanno preceduto la scoperta della scomparsa di Liliana. Sterpin aveva tentato ripetutamente di contattarla tramite chiamate e messaggi. Una comunicazione avvenuta alle 14.56 ha rivelato una voce maschile non chiaramente identificabile come quella di Visantin. In un momento cruciale, mentre si apprestava a presentare la denuncia di scomparsa, Visintin ha deciso di bloccare il numero di Sterpin. Se questa storia ti ha colpito e desideri seguire gli sviluppi del caso, iscriviti al nostro canale, lascia un like e attiva la campanella delle notifiche. Una mossa che ha sollevato diversi interrogativi e che è stata revocata solo cinque giorni dopo per consentire ulteriori comunicazioni. L'avvocato della famiglia Resinovich ha evidenziato questi dettagli come elementi significativi per le indagini. Sollevando dubbi e ipotesi che meritano una profonda riflessione. Ogni dettaglio potrebbe essere cruciale per risolvere questo mistero.